il mio taccuino ho preso tutta la gente che si vede ogni giorno ho studiato i loro comportamenti uno per uno e ho messo tutto nell'obiettivo della mia macchina fotografica il mio taccuino di appunti visivi adesso sono uno degli artisti più richiesti nella fotografia di moda ma non ho fatto sempre il fotografo vi racconto il mio candido segreto era la voglia di dire la mia compagna di ogni giorno ma fui costretto a impiegarmi per sbarcare il lunario durante i primi mesi di impiego la mia voglia di dire si rifletteva sulla vaschetta degli spilli avete presente il controluce bene un pomeriggio in cui ero tornato in ufficio per lo straordinario il controluce accarezzava le penne di timbri e svariava in varie forme sulle pareti della stanza prima piano poi sempre più veloce come chi ha fretta di crescere la voglia di dire mi suggerì di fotografare il controluce il giorno dopo tornai in ufficio con la macchina fotografica l'appoggiai alla vaschetta degli spilli e fotografai il controluce il mio collega di stanza e i tassi della macchina da scrivere immersi in un fazzoletto da allora ho smesso di fare l'impiegato non ho più usato la penna ma ho scritto con la luce commento molti quando ascoltano storie simili storcono la bocca perché credono che questi cambi di vita siano permessi solo dal caso o dalla fortuna non sanno che quando la vocazione è forte e coscienza e la coscienza crea grazie 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 grazie